L'Avvocato Paolo Arquilla è il responsabile regionale di Energie per l'Italia, il movimento che ha come leader a livello nazionale Stefano Parisi. In Abruzzo ci sarà un appuntamento il prossimo 4 ottobre a Chieti. Vogliamo presentarlo? Sì, ecco, noi faremo questo evento a Chieti insieme all'Associazione Gente d'Abruzzo. E Stefano Parisi verrà un po' ad illustrare, a parlare di economia, quindi soprattutto si rivolgerà a quella classe imprenditoriale, a quei piccoli imprenditori, artigiani che lavorano nel tessuto sociale del nostro Abruzzo. E il tema sarà l'Italia e l'Abruzzo hanno bisogno di sviluppo. Sarà un tema quindi ad ampio raggio. L'Abruzzo è una regione che si appresta, è stata comunicata la data del voto. A febbraio la regione tornerà al voto per scegliere il nuovo presidente. Ovviamente voi lavorate come movimento anche per prepararvi a queste regionali. Ispirazione di centrodestra, su chi state puntando per alleanze, strategie e quant'altro? Guardi, noi vorremmo riequilibrare, siamo un movimento liberale, popolare, direi razionale, cattolico, quindi stiamo lavorando, vorremmo riequilibrare un po' l'asse di centrodestra verso il centro. Ma è comunque sempre un concetto rivoluzionario, cioè nel senso che noi vogliamo rinnovare realmente poi il tessuto sociale della nostra società. Soprattutto nel campo dello sviluppo economico e dell'economia che riguarda soprattutto gli imprenditori. Ora è chiaro che la Lega ha un forte, in questo momento ha un forte appeal, quindi si rivolge a tutti però con temi forse anche un po' monotematici, come quello per esempio dell'immigrazione. Noi vorremmo che si parlasse anche di altro, quindi di come sviluppare il Sud e quindi in questo caso riteniamo che questi provvedimenti del nuovo governo che riguardano per esempio il Sud con il retto di cittadinanza sono dei provvedimenti un po' statalisti in cui lo Stato interviene, dà il contributo, poi però tutto finisce lì. Lo sviluppo economico non si basa solo su questo, si basa pure su concedere meno tasse agli imprenditori, quindi dare uno sviluppo complessivo alla società. Vorremmo quindi che ci siano provvedimenti veramente, veramente meno statalisti. Vi presenterete con una lista, state lavorando ad una lista per le regionali? Sì, abbiamo aperto un cantiere con vari altri gruppi, forse un po' più lontani dai tre partiti principali che sono Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, quindi ci siamo rivolti al movimento del senatore Guagliarello, quindi con il movimento di idea, anche agli amici cattolici del popolo e della famiglia e quindi con loro abbiamo aperto questo cantiere e stiamo vedendo di realizzare una lista. Per cercare di eleggere delle persone, io ritengo che anche in Consiglio regionale, più che la quantità, la qualità. Dobbiamo eleggere uomini in gamba, preparati, seri e puliti soprattutto, che possano rispondere alle esigenze dei nostri territori.